Grazie Gianluca, grazie a Serafina Pastore, grazie a Live per aver organizzato questo incontro e anche per avermi invitato. Siamo qui a parlare di valutazione, di valutazione formativa e chiaramente di valutazione formativa nella scuola primaria dove è stato introdotto questo nuovo sistema di valutazione che al tempo stesso costituisce una grande opportunità ma anche ha rappresentato uno scossone per la scuola. Io anche ragionando un po' con Gianluca e Serafina su come impostare il mio intervento oggi a voi che comunque fate parte di un'associazione o comunque aderite a un'iniziativa di un'associazione che si occupa di valutazione, vorrei fare un discorso un po' metacognitivo, cioè metariflessivo, cioè ragionare su come si colloca questa riforma, chiamiamola così, nel contesto in cui ci troviamo o meglio ancora nel contesto in cui è stata approvata una legge in Parlamento che ha aboliti i voti, il contesto in cui si è pensato come tradurre in una proposta sostenibile per la scuola e il contesto in cui è stata introdotta nella scuola da insegnanti, credo che molti di voi siano insegnanti, quindi da persone che in questo anno e mezzo, quasi due, comunque due anni scolastici, si sono mobilitati e messi in gioco di fronte a questa proposta. Quindi per fare questo parto dal maggio 2020, anno in cui appunto è stata approvata una legge in Parlamento e io ci tengo a tornare lì per due ragioni. Uno per chiarire che appunto è il Parlamento che ha deciso di abolire i voti e non il Ministero o il gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha solo trovato un modo perché fosse più chiaro agli insegnanti come passare dal voto a una valutazione formativa senza voto. e l'altro perché questa decisione è avvenuta alla fine del primo lockdown, cioè di marzo, aprile, maggio, tre mesi e mezzo di chiusura della scuola e di didattica distanza. Chiaramente questo periodo è stato un periodo di grave disagio per la nazione, ma in particolare per la scuola, per i bambini, per i ragazzi, per gli insegnanti, per le famiglie. Ma è stato anche una cartina al tornasole di alcune contraddizioni che caratterizzavano la scuola, che accompagnavano il lavoro all'interno della scuola. Alcuni inceppi degli ingranaggi del fare scuola nel nostro paese. E uno degli inceppi nell'ingranaggio, una delle questioni cruciali, al tempo stesso un tabù e anche una questione esplosiva è quella della valutazione. La DAD non ha fatto altro che mettere in luce la contraddizione di una valutazione che si accontenta di fare una media aritmetica, che pensa, come è stato detto subito dopo, che il voto sia un modo per mantenere la disciplina. Una delle cose che è uscita subito adesso è un voto, come facciamo a tenere la disciplina in classe? Il voto come un modo quindi per controllare gli allievi, come qualcosa che veniva visto come oggettivo, allora può essere numerico, ma essere oggettivo è un'altra cosa, perché più chiaro, sì forse più chiaro perché tutti sappiamo che il 3 viene prima del 4 e dopo il 2, ma la chiarezza rispetto a cosa vuol dire quel numero in relazione al percorso d'apprendimento, al processi di apprendimento che il bambino, la bambina, i ragazzi mettono in campo e il senso di quello che è successo, ecco questa chiarezza veramente è molto fumosa in realtà, si è parlato di trasparenza, si è parlato di facilità, è più facile il voto, è più facile per i genitori, è più facile per i bambini. Ecco, in realtà appunto la cultura della valutazione nella nostra scuola tenta veramente a essere messa in campo come un oggetto di confronto e di discussione e soprattutto è pochissima la formazione che viene fatta in questo campo. Noi sappiamo che la formazione iniziale ha riguardato e riguarda una piccola parte ancora degli insegnanti che ci sono a scuola, pochissima formazione, aggiornamento in servizio viene dedicata a questo e la formazione che c'è stata in questi anni in seguito a un cambiamento che deriva dalla legge 62 sulla valutazione che parla di certificazione delle competenze è stata fatta rispetto alla certificazione delle competenze senza mettere in gioco però la valutazione degli apprendimenti e degli obiettivi d'apprendimento senza metterli in relazione e poi spesso è stata di tipo o molto teorico o molto tecnicistico. Chiaramente facendo delle generalizzazioni perché poi non è sempre così, non è tutto così, però in molti casi è stato qualcosa più legato alla burocratizzazione della valutazione che ha il senso e a quello che la valutazione ci chiede in termini di riflessione sulla nostra didattica, sui processi d'apprendimento e sul monitoraggio serio dei progetti d'apprendimento. Ecco, bisogna tener conto che in ogni caso l'abolizione dei voti viene a completare una legge, che è la legge 62 che è rimasta monca perché la legge 62 aveva proposto di abolire i voti e è stata all'ultimo momento diciamo truncata nella sua vera natura reinserendo i voti. Quindi diciamo che questo è un po' il contesto, ma un altro elemento che caratterizzava e ahimè caratterizza tuttora il contesto scolastico è il fatto che noi veniamo da anni di riforme o mini riforme o pseudo riforme, comunque cambiamenti imposti alla scuola dall'esterno e dall'alto che non derivano da un'analisi seria di quali sono i bisogni della scuola, sistemica, non più seria ma non sistemica e comunque che non vengono accompagnati dalla formazione. Quindi quando non nel 25 agosto del 2020, me lo ricordo ancora perché devo dire che ha determinato i due anni della mia vita che sono seguiti, il 25 d'agosto ho aperto la mail e ho trovato la nomina come coordinatrice del gruppo di lavoro in quanto allora presidente del coordinamento nazionale di scienze della formazione primaria, io sono stata molto spaventata e sono stata tentata di non accettare, devo dire la verità. Poi è chiaro che io credo che abbiamo un dovere istituzionale in realtà di sostenere la scuola in tutto quello che le nostre competenze ci permettono di fare e soprattutto devo dire che mi sono trovata di fronte a una commissione molto competente decisa dal ministero in cui c'erano tutte le componenti, c'erano insegnanti, c'erano dirigenti scolastici, ispettori del ministero, c'era una docimologa con i fiocchi perché io sono esperta di valutazione per quanto riguarda la parte della valutazione che riguarda la progettazione didattica, di questo mi occupo da più di vent'anni, però è chiaro che ci voleva anche una competenza docimologica, c'era in questo senso sia la collega Gabriella Grusti che è veramente una punta di diamante in questo campo e anche il dottor Ricci dell'Invalsi. C'era una rappresentante dell'Indire, quindi mi faceva ben pensare rispetto poi al percorso formativo successivo, insomma diciamo che c'erano tutti gli elementi, ci siamo trovati a lavorare e volevo dirvi un po' la filosofia e la cornice in cui ci siamo mossi e che ci ha un po' guidato. Allora la prima cosa, la prima preoccupazione è stata quella di accompagnare il più possibile appunto questo cambiamento all'interno di un sistema scolastico così com'è, cioè già questo cambiamento chiedeva appunto un grande ripensamento, allora abbiamo detto ancoriamoci a quello che la normativa e la pratica scolastica presenta e ci offre come risorse e due sono stati gli elementi, uno che ci siamo collegati a quanto la legge 62 diceva sulla certificazione delle competenze, tanto è vero che noi abbiamo scelto quattro livelli e molti nella discussione diceva no ma ce ne vogliono cinque perché almeno sei, sette, otto, nove, dieci. Allora intanto proprio perché cinque livelli sarebbero corrisposti ai voti noi abbiamo detto no perché i livelli non sono i voti e tenete conto che noi abbiamo dovuto definire dei livelli perché lo diceva la legge e abbiamo detto quattro livelli primo perché scombiniamo, scompaginiamo questo parallelismo che già purtroppo comunque c'è stato e secondo perché sono i quattro livelli delle competenze e abbiamo detto per la prima volta almeno allineiamo quattro di qui, quattro di là. Abbiamo modificato una dizione perché nella certificazione competenze il livello più in basso diciamo si chiama base e noi l'abbiamo chiamato in via di sviluppo perché lavorando tutti noi nelle scuole abbiamo capito che quello veramente creava confusione agli insegnanti, ci è stato detto in tutti questi anni e poi comunque il livello minimo non essendoci l'insufficienza, non essendoci la bocciatura, per fortuna, comunque deve dare il senso del fatto che stai, cioè il bambino sta acquisendo. Tenete conto anche abbiamo ricollegato al fatto che la legge 62 ci dice che l'insegnante quando si trova di fronte a un livello in via d'acquisizione non dice deve incolpare i genitori, deve dare dei compiti a casa, deve bocciare, dice deve trovare gli strumenti per aiutare, accompagnare il bambino perché arrivi a un livello base. Questo per tutti i bambini che non hanno certificazione e o non hanno né PEI né PDP, quindi io non parlo di quello anche perché non è aspettato a noi, cioè l'ha fatto un altro gruppo con tutta la serietà e il senso di quello che è stato fatto. Quindi noi guardavamo i bambini che non avevano un percorso individualizzato. Per tutti quei bambini l'insegnante, la scuola è chiamata a rimuovere gli ostacoli, come dice la Costituzione, e a trovare un modo perché si arrivi a livello di idoneità rispetto all'acquisizione di quegli apprendimenti. L'altro elemento a cui ci siamo agganciati, lo devo dire con grande convinzione perché veramente all'unanimità, sono state le indicazioni nazionali. io non mi stanco di dire che sono uno dei più bei documenti che la scuola ha avuto negli ultimi vent'anni, sono carichi e ricchi del senso del lavoro dell'insegnante nella sua valenza più formativa e più educativa, ma anche sono molto diciamo facilitanti nell'accompagnare rispetto a un processo di acquisizione nei diversi ambiti del sapere, cosa che noi non potevamo fare perché noi non eravamo lì tutti gli esperti di tutti gli ambiti del sapere. Quindi noi ci siamo detti, noi ci riferiamo alle indicazioni nazionali e quindi chiediamo agli insegnanti di partire dalla progettazione didattica. Le indicazioni nazionali ci dicono che la valutazione è volta a dare valore a quello che fanno i bambini e le bambine e al lavoro dei bambini e delle bambine insieme agli insegnanti, ci dice che la valutazione precede, accompagna e segue l'azione didattica, ci dice che la valutazione ha una finalità formativa e questo si collegava a quello che dice la ricerca internazionale, poi Serafina Pastore ce lo dirà dopo, la cosiddetta valutazione di quarta generazione ci dice che dobbiamo passare dalla valutazione degli apprendimenti a una valutazione che sia anche degli apprendimenti ma che sia per gli apprendimenti, quindi che sia per il miglioramento del percorso dei bambini ma io come posso definire il miglioramento del percorso dei bambini se non ho chiara la mia intenzionalità didattica, la mia intenzionalità progettuale e quindi noi abbiamo detto il processo di valutazione si ancora alle indicazioni nazionali e agli obiettivi d'apprendimento e qua c'è stato uno degli elementi diciamo che poi riprenderò dopo, una delle questioni calde discusse dopo che è uscita all'ordinanza e le linee guida perché le due accuse diciamo, lo dico così ma perché in realtà è stata anche una grande occasione di confronto e discussione io credo nel paese, uno degli elementi diciamo evidenziati è ma come se la valutazione deve rifarsi agli obiettivi d'apprendimento allora è un modello comportamentista. Allora il modello comportamentista è un modello ben chiaro che tra l'altro chi ha la mia età se lo ricorda al suo nascere cioè il mastery learning ha tutta una serie di dettami che di cui nessuno qua ha parlato. Noi abbiamo parlato di obiettivi d'apprendimento in termini davvero di progettualità dell'insegnante. L'insegnante dove vuole andare, dove vuole portare i suoi bambini. Il secondo tema che si ricollega a questo è stato ah ma allora dove vanno a finire le competenze. Allora io credo che chi ha studiato e si è formato sulla progettazione valutazione per competenze ha chiaro che le competenze in sé in astratto non sono valutabili. Sono valutabili solo attraverso un graduale percorso di obiettivi sempre più complessi che tendono alla competenza e siccome la competenza nella maggior parte dei casi è trasversale poi ci sono anche quelle più prettamente disciplinari ma sono quasi sempre presenti nei diversi ambiti disciplinari e allora ci saranno più obiettivi di più ambiti disciplinari che ci aiuteranno a tendere alle competenze. E io credo che questo costituisca uno dei nodi su cui si dovrà lavorare ancora si deve si dovrà lavorare ancora tanto perché ve lo dico andando in giro ormai per tutta Italia anche se in remoto i casi di insegnanti che non hanno mai aperto le indicazioni nazionali ci sono. E i casi di difficoltà nella formulazione di un obiettivo non si contano. Quindi non del fatto che non lo fanno ma che non lo sanno fare ma che ti dichiarano difficoltà nel formulare l'obiettivo perché l'obiettivo viene molto facilmente confuso da una parte col contenuto mentre per essere un obiettivo d'apprendimento deve avere un processo e c'è un'ordinanza in cui viene detto questo. Dall'altra parte se io perdo il contenuto lo confondo con la competenza. L'obiettivo d'apprendimento al processo al contenuto poi posso vedere il processo è espresso in termini di verbi eccetera va bene quindi abbiamo ragionato su una valutazione che andasse a valutare processi e questo secondo me è già uno spartiacque perché non è che allora non valuto più il prodotto ma non valuto il prodotto in sé io utilizzo anche i prodotti oltre ad altro adesso poi ci arriverò per valutare cosa i processi di apprendimento e per valutare i processi di apprendimento senza da una parte appunto cadere nel comportamentismo che è tutto legato alla didattica che faccio io non al fatto che ho un obiettivo da una parte dall'altra perché la valutazione per obiettivi comunque fosse volta alle competenze e soprattutto alla valenza formativa era importante spostare la valutazione da una valutazione puntiforme cioè della singola prova di verifica a una valutazione in itinere solo che da questo punto di vista e l'abbiamo chiarito nelle linee guida quello che forse non era nemmeno così chiaro a chi ha secondo me votato la legge e nemmeno a chi la criticava la nuova legge è che se parliamo di valutazione formativa e questo c'era già nelle indicazioni nella legge 62 noi dobbiamo passare da una valutazione di tipo normativo ad una valutazione di tipo criteriale e la valutazione di tipo normativo mette in classifica i bambini cioè punta sul confronto fra bambini mentre la valutazione criteriale definisce i criteri e quindi per ogni bambino va a vedere come questi criteri si applicano in un percorso che è unico per ciascun bambino non è il piano che è unico è l'osservazione che io faccio e anche qua allora io vi faccio voce contro voce via via allora ci è stato detto e ma come se non è più normativa allora perché c'è ancora l'imbalsi perché la valuta l'imbalsi è una valutazione di tipo normativo che valuta il sistema non valuta i singoli apprendimenti tant'è vero che i dati non sono per singolo bambino e quando è stato fatto l'errore madornale di decidere che la valutazione che i dati invalsi venivano usati per l'esame di terza media si sono visti i risultati deflagranti tant'è vero che si è tornati indietro per fortuna quindi valutazione invalsi è una cosa e è complementare cioè non c'entra con quello che poi noi facciamo in classe può servire a noi per ragionare a noi insegnanti non al bambino mentre la valutazione degli apprendimenti e per gli apprendimenti è quella per cui noi il nostro diretto interlocutore è il bambino non è nemmeno la famiglia la famiglia è quella a cui io devo imparare comunicare questo ma il primo interlocutore è il bambino quindi valutazione in itinere e qua vuol dire valutare i processi la progressione l'evoluzione e non la valutazione puntiforme vuol dire affidarsi a quella che viene definita valuta alcuni mariani per esempio la valutazione alternativa cioè non puoi usare un solo tipo di strumento quindi non puoi usare solo prove risposte chiuse non puoi usare solo interrogazioni non puoi usare solo i temi non puoi usare solo i problemi di un certo tipo tu devi usare strumenti diversi e agi ci dice che esistono tre tipologie di strumenti gli strumenti per valutare gli apprendimenti gli strumenti per codificare diciamo formalmente le schede di valutazione ma ne esistono altri che sono gli strumenti per promuovere quel tipo di apprendimento e io credo che su questo questo rappresenti veramente la rivoluzione copernicana e cioè le dimensioni i criteri perché i criteri potevano essere diversi e anche qua noi abbiamo pensato che dovevano essere legati alle competenze e quindi la competenza le competenze cosa ti dicono se per essere competente tu devi dimostrare una padronanza in situazioni inedite ma non inedite solo perché quella cosa lì non l'hai mai fatta perché ci sono problemi logici io posso farne 150 ma sono tutti diversi sono comunque situazioni rispetto a quello che mi si chiede in quello lì inedite io lì abbiamo usato situazione nota non nota perché la definizione che viene data dalla letteratura sulle competenze devo dire io preferisco e l'ho utilizzato nella formazione che abbiamo fatto così come nella pubblicazione che abbiamo fatto per integrare le linee guida che c'era fatta in due mesi peraltro e per cui c'era stato detto che dovevano essere agili perché in effetti già non si leggono le indicazioni nazionali qui non si sarebbe letto neanche questo ma io preferisco la differenza fra compiti o situazioni rutinarie e compiti o situazioni concettuali questo è una definizione una distingo del di elisabeth cohen che l'aveva fatta negli anni 90 su lei lavorando sul lavoro di gruppo ma comunque secondo me molto valida allora purtroppo ahimè nella scuola prevalgono le situazioni rutinarie cioè quelle riproduttive ripetitive prescrittive guidate strutturate e quindi in cui io non arrivo mai a chiedere e a monitorare processi complessi cioè andare in alto nella tassonomia di bloom come faccio a certificare le competenze se io rimango sempre ai compiti e rutinari e quindi noi abbiamo detto va bene definiamo dei criteri per cui per arrivare all'avanzato tu sei obbligato a chiederti che tipo di compito attività situazione di didattica tu stai proponendo se proponi solo quelle rutinarie tu puoi fermarti a livello base massimo l'intermedio infatti alla fine del primo anno una delle degli allarmi è stato a ma si dà praticamente sempre intermedio e si dà intermedio perché tu non vai a differenziare la tua didattica e non vai a scegliere situazioni differenziate in cui ci siano situazioni note situazioni non note situazioni in cui io accompagno e quindi diciamo non lascio la completa autonomia e situazioni in cui io poi vedo che si arriva l'autonomia non è è un prerequisito è un obiettivo quindi dire se il bambino è riuscito a fare quella data rispondere a quella data consegna in modo autonomo non autonomo non è qualcosa che mi metto a braccia incrociate dico ma è autonomo non autonomo no perché se non è autonomo devo provare aiutarle quindi il livello il primo livello è se riesce a farlo col mio aiuto poi c'è chi per talenti naturali o per talenti familiari riesce a farlo autonomamente già da subito ma questa non è la maggioranza dei bambini quindi non è che switch on switch off sei capace o non sei capace no a volte sei capace con un aiuto a volte non sei capace nemmeno con un aiuto a volte sei capace alla fine anche da solo e questo richiadeva di ripensare il ruolo dell'insegnante perché l'insegnante non è quello che trasmette impartisce e va a verificare l'insegnante promuove monitora accompagna e poi va e durante valuta e valuta alla fine così come io credo che se seriamente un insegnante si interroga sulla situazione nota o non nota deve ripensare la sua didattica un insegnante con cui io lavoro da tanto tempo tra l'altro un insegnante bravissima della scuola secondaria di primo grado peraltro mi ha detto ma sai che io ho provato detto voglio provare anch'io anche nella mia classe applicare i criteri e lei mi ha detto ma sai che mi sono accorta che io davo quasi solamente situazioni note quindi questo effettivamente ha interrogato gli insegnanti e nello stesso tempo è una delle difficoltà che stanno incontrando ma difficoltà che noi abbiamo verificato anche nel corso che stiamo facendo come ministero per formatori poi ci tornerò ce l'hanno detto i formatori che avevano difficoltà nel capire la differenza fra noto e non noto perché davvero è poco esplorata la situazione non nota concettuale un altro autore lo chiama chiama per esempio compiti pratici complessi ci sono varie definizioni no e idem il tema delle risorse noi abbiamo un po un modello a volte di didattica da badanti cioè io devo dire al bambino tutto esattamente cosa deve fare per due ragioni uno c'è chi dice e no perché se non glielo dico non lo sa fare quindi completa mancanza di fiducia e di sostegno ai bambini in qualche modo cioè di sostegno all'autostima dall'altra perché se no non lo fa come lo dico io però questo il problema non è far fare le cose come le dico io il problema è far acquisire una padronanza alla fine e quindi andare a verificare l'acquisizione di un processo del tutto appunto in completa autonomia o con l'aiuto e però questo vuol dire che l'autonomia pratica la vedi l'autonomia cognitiva la puoi vedere solo se il bambino ha la possibile o la bambina hanno la possibilità di seguire percorsi che io non ho previsto di accedere a risorse differenziate di andare a pescare risorse che a cui accede altrove perché è qualcosa che è stato fatto negli altri anni da altri insegnanti o che impara fuori dalla scuola e quindi veramente io credo che questo questo può davvero come dice la locandina accompagnare un ripensamento all'interno della scuola da ultimo e poi mi fermo perché ho già parlato troppo quali altre criticità cos'è successo a scuola allora sono successe due cose come spesso in italia succede opposte da una parte una mobilitazione incredibile devo dire noi siamo molto orgogliosi del fatto che abbiamo imposto al ministero che la presentazione sarebbe stata pubblica rivolta a tutti gli insegnanti che volevano accedere abbiamo approfittato del remoto avremmo potuto approfittare di uno streaming anche se eravamo in presenza noi non volevamo che ci fosse un'intermediazione peraltro molto probabilmente che sarebbe stata molto probabilmente burocratica volevamo che burocratica volevamo che gli insegnanti avessero qualcuno che parlava direttamente le persone che l'avevano fatto che spiegavano direttamente perché e cosa cosa come e perché nelle due giornate di presentazione ci sono stati in presenza in sincrono 25 mila insegnanti collegati e nei giorni successivi l'hanno visualizzato centi centinaia di migliaia di insegnanti e questo io credo che sia stata una prova del fatto che la scuola vuole capire vuole che la si consideri e parte di questa scuola veramente si è mobilizzata subito e la cosa assurda no non assurda però che ci ha veramente colpito è che noi abbiamo altro non so se abbiamo fatto un errore abbiamo fatto bene però ci abbiamo messo la faccia e quindi nell'ultima slide della presentazione abbiamo messo tutte le nostre mail allora per mesi noi abbiamo ricevuto mail di insegnanti i primi giorni fino a 50 mail al giorno a cui abbiamo risposto a tutte e non erano fac perché c'erano anche le facche ma è una cosa diversa erano insegnanti che ci dicevano la loro contentezza la loro paura il loro spavento che ci chiedevano delucidazioni che ci raccontavano quello che stavano facendo che ci chiedevano un parere che ci chiedevano conforto rispetto a colleghi che sembravano poco convinti a dirigenti poco convinti quindi c'è veramente io credo che si sia sentita questa cosa qual è il lato critico uno che comunque voi lo sapete meglio di me la scuola ha una forza di inerzia e quindi questo è stato un pericolo non solo ma il fatto che noi abbiamo il primo anno abbiamo formato a costo zero per lo stato 8 mila insegnanti ma erano funzioni strumentali e eravamo in otto quindi noi abbiamo chiesto di poter fare subito un corso rivolto a formatori in modo che poi ci fosse una formazione reticolare sul territorio perché ci sono stati vari travisamenti diciamo persone che hanno cominciato a far costruire rubriche su rubriche che hanno davvero messo gli insegnanti secondo me più in difficoltà il corso per formatori per gli avvicendamenti dei governi e del ministero è stato fatto solo adesso finisce adesso per cui io spero che l'anno prossimo ci sarà una nuova edizione adesso quest'estate io spero che l'anno prossimo davvero ci possa essere una formazione massiccia nelle scuole è una formazione che ha un linguaggio condiviso però cioè che non che non è che va per slogan o per sentito dire e quindi questo mi sembra che possa essere una risorsa un ultimo punto critico che stiamo cercando di contenere barra diciamo sistemare il registro elettronico allora il registro elettronico è stato uno dei peggiori nemici di questa riforma ma anche di maggiori preoccupazioni degli insegnanti e dei dirigenti allora uno purtroppo credo per una dimenticanza legislativa ma il registro elettronico non è obbligatorio tant'è vero che si può compilare e chiudere cioè non è obbligatorio comunicare alle famiglie attraverso lo si può usare ma non è obbligatorio prima cosa seconda cosa non è nemmeno obbligatorio usarlo tutti i giorni quindi a poco a poco abbiamo cercato di far capire quello che la collega che ha lavorato un insegnante che ha lavorato anche molto con l'imbalsi che Catti Savioli ha chiamato l'abdomesticamento del registro il registro elettronico è uno strumento non è un fine quindi siamo noi che dobbiamo addomesticare il registro per il nostro uso e chiaramente all'inizio non era adatto adesso un po' si sono adattati col ministero stiamo lavorando insieme alle società che erogano questo servizio e credo che l'anno prossimo anche su questo potremo avere dei risultati ecco io scusate scusami Serafina credo di avere un po' esagerato mi sono fatta prendere la mano no no assolutamente grazie mille Elisabetta assolutamente no e grazie per questo intervento che ci racconta quanto come dire nella genesi e nell'implementazione di una politica si intrecciano considerazioni teoriche considerazioni pratiche considerazioni spicciole interazioni e quanto è importante la comunicazione di processi tutto questo quindi grazie mille io cedo la parola a appunto Serafina Pastore che invece ci parla degli effetti di questo tipo di politiche quindi Serafina prendi il tuo tempo non ti preoccupare non ti preoccupare non ti preoccupare intanto io ho visto che qualche domanda Elisabetta già c'è in chat se vuoi darci un occhio poi rispondiamo in coda a tutto il resto grazie anche a chi sta mandando domande ho un problema ho un problema di linea provo a uscire e rientrare d'accordo grazie ditemi che cosa vedete vediamo il tuo desktop Serafina e non è quello che dovreste vedere quindi ok non era un brutto destro il mio è molto brutto destinato provo lo stesso vediamo metto le slide si vedono no condividi vediamo è andata ora sì ora ci siamo grazie molte solo che io non vedo più voi va bene ok intanto grazie grazie ad Elisabetta perché davvero è stata squisita nella nell'accettare il nostro invito il tema è un tema molto caldo soprattutto per quanto riguarda non soltanto come dire nell'immediato della della riforma ma perché appunto intercetta un tema che è molto caro al gittistruzione che è la cultura valutativa degli insegnanti che è una cosa che la professione Stanigris ha ha detto e quindi siamo siamo contenti di essere riusciti a fare questo questo nostro incontro proprio nell'ottica di dare dare spazio a a occasioni di confronto di dibattito di prospettive differenti anche da questo da questo punto di vista io devo ringraziare anche i colleghi del gt che hanno voluto che io mi occuparsi di questo di questo tema perché è il mio tema di ricerca quindi cercherò ovviamente ho dovuto fare le slide perché a differenza di Elisabetta devo contenermi rispetto alle cose che vorrei dirvi e questa cosa risale a tanti anni fa in un certo qual modo perché si dieci anni fa più o meno pubblicavo con franco angeli proprio nella collana di di aiv questo testo che era un po come dire il frutto della mia prima peregrinazione all'estero nello specifico appunto al crest di los angeles e il titolo era già già tutto un programma per certi aspetti perché l'idea di scompaginare in un certo qual modo quelle che potevano essere le le rappresentazioni sclerotizzate anche rispetto alla pratica valutativa e nello specifico al formative assessment erano erano davvero tante quindi oltre il mito educativo voleva essere in un certo qual modo l'idea di far capire non soltanto agli insegnanti ma anche alla comunità scientifica che il formative assessment come cantano appunto Michael Jackson e Paul McCartney non è una pozione magica però e questo cercherò insomma di raccontarvelo oggi pomeriggio può dare agli insegnanti effettivamente una potenza in termini didattici che è fenomenale ed è forse una delle leve più potenti di cui l'insegnante può disporre in termini in termini didattici quindi che cosa vi propongo oggi è in un certo qual modo diciamo in maniera un po più più pacata e più realistica una lettura appunto evidence base di quelle che sono le trasformazioni che ci sono state in altri contesti scolastici diversi da quello da quello italiano e di quello che effettivamente poi il formative assessment o la valutazione a supporto dell'apprendimento comporta in termini di incremento dei livelli di apprendimento degli studenti tutti quanti noi come insegnanti siamo interessati no vogliamo che i nostri studenti raggiungano migliori livelli di apprendimento e quindi è una una prospettiva particolarmente interessante da questo punto di vista come ho organizzato il mio intervento io parto prima da una premessa e poi diciamo cercherò di fare una precisazione che è necessaria per delimitare in un certo qual modo quello che è il campo di indagine o comunque quello che è lo spazio che mi sono ritagliata per raccontarvi un po di cose e poi ci sarà una considerazione e vediamo appunto una una possibile lettura di qualche evidenza magari se c'è tempo anche di quello che sono riuscita a fare qui in Italia qual è la premessa la premessa è quello che già la professoressa nigris stava stava molto molto bene raccontando rispetto a quella che è stata la sua esperienza no di chi ha vissuto dall'altra parte della barricata mettiamola così l'implementazione della riforma dell'ultima riforma nell'ambito scolastico italiano ed è questa cioè che i cambiamenti o se preferite appunto le riforme in ambito educativo hanno tempi particolarmente lenti di metabolizzazione e questa è una cosa che forse noi tendiamo a dimenticare perché appunto il il passaggio no da quella che è la rational da quella che la filosofia in un certo qual modo della della policy educativa deve poi trovare il tempo deve avere il tempo di essere come dire capita e implementata effettivamente nella prat attraverso la pratica degli insegnanti è anche vero però questo non lo dico io che le trasformazioni o appunto le riforme in ambito scolastico come canta qualcuno fanno dei giri immensi e poi ritornano quindi hanno una natura ricorsiva in un certo qual modo si si avvicendano nel corso nel corso delle stagioni iward e colleghi definiscono quelle che sono le trasformazioni o le riforme in ambito scolastico spesso come degli uragani che nell'oceano sollevano onde pazzesche ma non riescono proprio rispetto a quella quella questione che stavo dicendo della metabolizzazione a modificare effettivamente le pratiche sottostanti no quindi quello che effettivamente gli insegnanti fanno in classe e le ragioni sono sono tante diverse e qui poi sta il bello come dire della ricerca della ricerca educativa che dovrebbe essere di supporto poi rispetto a quello che è il cambiamento istituzionale la precisazione qual è è relativa alla definizione di formative assessment o di valutazione per l'apprendimento a me è stato insegnato che la valutazione è in qualsiasi ambito in qualsiasi contesto voi la considerate un processo e come processo ha questa caratteristica questa è la definizione ripresa dalla dai common core state standard americani l'ultima l'ultima versione del 2018 e riprende un ventennio di tentativi di definire quella che è la valutazione al supporto dell'apprendimento sulla scorta di questo testo che adesso cercherò di raccontarvi anche cosa dice che inside the black block black box di black and william che cosa dicono che appunto la valutazione è un processo pianificato e continuo utilizzato da studenti e insegnanti durante l'apprendimento e l'insegnamento per fare che cosa per raccogliere e utilizzare quelle che noi in termini tecnici chiamiamo evidenze di apprendimento degli studenti ea che cosa è finalizzata questa valutazione perché è così diversa da quella che noi tradizionalmente conosciamo perché orientata sostanzialmente al miglioramento dell'apprendimento e soprattutto questo nell'ottica anche di come dire un allineamento rispetto a quella che potremmo recuperare come didattica per competenze l'idea di supportare gli studenti a diventare self directed learner cioè a saper gestire in autonomia quello che è il proprio processo di apprendimento che non è una cosa facilissima questo le converrete con me però sicuramente non è neanche impossibile quindi può essere effettivamente stuzzicato e provocato dall'insegnante in determinate affidandosi a determinate strategie quali sono le caratteristiche che deve avere allora il formative assessment la valutazione e supporto dell'apprendimento perché come dire corrisponde effettivamente a quello che è un miglioramento nel processo di apprendimento questo signore è in fotografia è Dylan William ed è come dire il io lo chiamo il papà del formative assessment ma in realtà non lo è perché il formative assessment ha una tradizione lunghissima che va molto indietro negli anni fino agli anni fino agli anni settanta però la persona che vende centomila copie di un testo e che è il più citato per quanto riguarda l'assessment for learning forse qualche cosa insomma di buono l'ha detta e l'ha fatta che cosa che cosa dice questo questo autore che per garantire un corretto formative assessment bisogna assicurarsi queste cinque strategie da che cosa da che cosa partiamo partiamo da quella che è la condivisione e la comunicazione in un certo qual modo agli studenti di quelli che sono gli obiettivi di apprendimento e non solo la professoressa nigris ha parlato prima di criteri bene questi criteri devono e dovrebbero essere comunicati anche agli studenti perché perché la ricerca dimostra che se lo studente sa come sarà valutato orienta in maniera più efficace quello che il suo sforzo perché sa dove effettivamente è orientato e dove vuole che l'insegnante arrivi il secondo passaggio è relativo invece alla definizione e alla progettazione e alla esplicitazione di quelle che sono in inglese learning task quindi volendo possiamo tradurlo appunto sia con prove ma anche con compiti di apprendimento e sono quelle situazioni che la professoressa nigris stava richiamando cioè situazioni artate create ad hoc dall'insegnante perché perché la competenza non la vedi l'apprendimento per competenze non lo vedi lo devi rendere visibile attraverso situazioni specifiche che permettano allo studente non di replicare o di dimostrare che conosce per intenderci la tabellina del due ma che sa utilizzarla e che sa tutta un'altra serie di procedure relative a come ottimizzare e risolvere un problema fa leva su queste due forme di valutazione che sono un po' particolari per certi aspetti e un po' sfidanti per altri e cioè all'autovalutazione dello studente e soprattutto la valutazione tra pari e poi ruota attorno a quella che è una delle degli aspetti più importanti se vogliamo parlare davvero di formative assessment cioè il feedback la restituzione del feedback che deve essere fornito in una determinata maniera e con determinate caratteristiche adesso lo mettiamo in stand by e poi aggiungerò aggiungerò qualche altro qualche altro elemento che cosa fa però l'insegnante tutto quello che effettivamente ricava attraverso la valutazione noi non ci non ci dobbiamo dimenticare che tutto è funzionale a ricavare inferenze che servono poi a guidare il decision making no quello che io effettivamente voglio fare poi con 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 la mia con la mia classe e quindi devono servire tanto agli studenti tanto agli insegnanti per rivedere quelle che sono le proprie strategie sia in termini di apprendimento sia appunto in termini di insegnamento solo così diciamo possiamo garantire che effettivamente si chiuda o si colmi si 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 vada a coprire quello che viene chiamato learning gap cioè il il la mancanza di apprendimento questo è una rappresentazione in un certo qual modo di quello che è il ciclo del formative assessment margaret heritage lo ha elaborato nel duemila undici duemila tredici e io poi ho provato a agganciarci nel testo più scritto sull'autovalutazione quella che poteva essere la parte relativa invece alla progettazione per competenze e in in viola e in bluetto vedete le azioni che diciamo spetterebbero in un certo qual modo più all'insegnante e quelle che invece sono diciamo di pertinenza degli studenti proprio perché dobbiamo ricordarci che è un processo cogestito il che non significa attenzione che io come insegnante non abbia la responsabilità di tutto il processo e che non debba garantire questo un altro elemento importante il fatto che io stia parlando di un processo di valutazione questo l'ho detto prima lo ribadisco adesso c'è un processo di inquire di indagine che deve essere condotto in maniera rigorosa affidabile valida per poter garantire appunto evidenze che mi permettano di prendere poi decisioni ponderate di non basare le mie decisioni su quelle che possono essere stereotipie pregiudizi o come dire aneddoti che in un certo modo recuperato in classe e questo è un elemento importantissimo perché perché proprio l'idea del formative assessment della della valutazione al supporto dell'apprendimento per anni è stata identificata come vi dicevo prima come una sorta di pozione magica di bacchetta io faccio formative assessment e funziona no non è proprio così non è proprio immediato devi garantire una serie di azioni altrimenti come appunto dice il mio collega Gavin Brown non la chiamiamo più valutazione chiamiamola in un'altra maniera perché non è valutazione se ci limitiamo semplicemente a fare leva sulla dimensione della dire del supporto non ci dobbiamo dimenticare appunto la valutazione per l'apprendimento è un processo di valutazione e veniamo alla considerazione for the pleasure of her majesty the queen l'uso della letteratura e della lingua inglese non è solo un vezzo è dovuto a ragioni storiche che a parte come dire le 13 colonie che vanno per per la loro strada quindi gli stati uniti che da sempre hanno prodotto tantissimo tantissimi studi su quello che il formative assessment negli anni quindi i vari paesi del Commonwealth si sono avvicendati rispetto a quella che era la produzione di letteratura e gli studi che sono stati condotti sul sul formative assessment quindi se in un primo in una prima fase abbiamo Canada Sudafrica Australia e Nuova Zelanda oggi come oggi invece gli studi più interessanti e in un certo qual modo anche più innovativi vengono dalle colonie dall'ex colonie di Hong Kong Singapore Taiwan dove c'è particolare fermento anche rispetto al tema delle trasformazioni dei sistemi scolastici e anche della formazione insegnante. Ora veniamo però a quella che era la la lettura no che vi avevo in un certo qual modo anticipato rispetto alla alle evidenze che la domanda fondamentale alla fine rimane no ma questa benedettissima forma di valutazione funziona o no promuove o no effettivamente un incremento nell'apprendimento degli studenti e tutto è cominciato appunto nel 1998 non andiamo troppo indietro nel tempo concentriamoci sugli ultimi appunto venti ventidue anni più o meno con la pubblicazione di questa di questo testo da parte di Black and William che all'epoca erano anche consulenti del ministero della dell'educazione e che sono stati tra gli estensori del famoso manifesto dell'assessment reform group ARG dove elaborano queste dieci undici affermazioni molto contestuali richiamando la necessità di ridurre l'uso spasmodico che si faceva della valutazione standardizzata perché erano stati riscontrati notevoli livelli di ansia e di stress da parte degli studenti soprattutto della secondaria e quindi di promuovere di far sì che gli insegnanti effettivamente introducessero nella loro pratica a proposito di onde oceaniche di trasformazioni la pratica del formative assessment questo testo ha scatenato in un breve arco di tempo un vero e proprio tsunami perché nel loro testo Black and William in questa ricerca che loro propongono fanno riferimento a una forma di meta analisi allora devo devo fare un passaggio in passaggio come dire preliminare da questo punto di vista le indagini che vedete in questa slide degli studi che vedete in questa slide sono tutte o meta analisi o systematic review che cosa sono queste forme di indagine sono forme che si rendono necessarie quando all'interno di un determinato campo di indagine gli studi sono tanti sono differenti e come accade appunto nel caso del formative assessment sono sono davvero come dire escono di continuo quindi c'è una proliferazione di studi esagerata anche per certi aspetti la meta analisi nello specifico so che ci sono degli insegnanti quindi cercherò di essere il più più semplice possibile a che cosa serve serve a sostanzialmente accorpare sintetizzare in un certo qual modo studi che sono stati condotti in situazioni differenti ma che sono accomunate dalla stessa domanda di ricerca e che è quella che leggete sostanzialmente quindi il formative assessment promuove migliore apprendimento negli studenti o no gli studi devono però avere delle caratteristiche devono essere tutti di stampo come dire quantitativo quindi o sperimentali o quasi sperimentali proprio perché solo in questa maniera è possibile ottenere quella che si chiama una stima quantitativa del fenomeno che è stato studiato per esempio appunto l'efficacia di un determinato intervento oppure l'efficacia di quella che è un'azione realizzata dall'insegnante che poi si vede nell'apprendimento degli studenti nella nello studio di black and william partono da una da da due precedenti rassegne che erano state pubblicate negli anni negli anni 80 una di crux che aveva analizzato 251 studi e l'altra di natriello che ne aveva analizzati soltanto 98 comparando questi due studi black and william si rendono conto che nessuno cioè che c'erano soltanto nove studi in comune e che nessuno dei due di questi di questi autori autori che vi ho citato faceva riferimento a una precedente rassegna che era stata condotta da fuchs and fox nel 1987 sugli studenti oggi li chiameremmo special learning needs cioè studenti con bisogni educativi speciali in quell'articolo in quella ricerca sono chiamati handicappati e che era in un certo quel modo già buggata per certi aspetti perché si concentrava su un determinato target di studente non permetteva poi effettivamente di fare particolari comparazioni black and william questa è una cosa per i ricercatori molto interessante perché fa vedere come è cambiato in un certo modo anche il nostro lavoro con internet fisicamente in biblioteca si spulciano qualcosa come 76 riviste per dieci anni quindi dal 1987 al 98 collezionando qualcosa come 600 articoli su riviste di psicologia e di educational research e arrivando a creare un campione di 250 studi più o meno questi studi vengono ovviamente analizzati e la considerazione finale che emerge e che il formative assessment porterebbe in termini di deviazione standard a un come dire un'alternanza tra il 50 e 70 per cento di deviazione standard nell'apprendimento degli studenti che in termini statistici insomma è tanto e quindi capite che una volta fatta questa affermazione si è scatenato l'inferno in un certo quel modo perché appunto è partita di lì l'idea che il formative assessment fosse la risposta in termini anche di policy educative a tutti i problemi dei vari sistemi scolastici cosa che invece non è vera perché perché poi la comunità scientifica e il mondo della ricerca sono belli anche per questo a Black and William hanno fatto pelo e contropelo e quindi ci sono state tutta una serie di critiche che nel 2006 hanno portato lo stesso William a attutire in un certo qual modo a ammorbidire quelle che erano le sue posizioni dicendo che sostanzialmente loro non avevano fatto una meta analisi quindi si è tirato molto indietro ed era invece una configurativa analysis cioè un'analisi che cerca di come posso dirvi configurare il campo d'azione più che indagare quello che era l'impatto del formative assessment fatto sta però che loro effettivamente gli studi che avevano considerato li avevano poi letti alla luce sia del teams quindi della rilevazione internazionale IEA sugli apprendimenti di matematica sia sul GCCA cioè sul general certification secondary education che corrisponderebbe giusto per farvi capire ma non è proprio la stessa cosa alle prove invalsi per quanto riguarda però siamo sulla secondaria quindi il grado 9 il grado 10 e il grado 11 nella storia del formative assessment la prima vera meta analisi che rappresenta davvero una pietra miliare è quella di Gionetti ed Elen Timperley sono due neozelandesi che nel 2007 hanno analizzato 12 studi 12 meta analisi a loro volta sul sul feedback che come vi ho spiegato è una degli elementi principe del del formative assessment e da lì ne ricavano un titolo che è già tutto un programma perché appunto è the power of feedback e da lì noi recuperiamo una serie di considerazioni rispetto a come effettivamente il feedback debba essere modulato per garantire un buon formative assessment per esempio perché Timperley ci dicono che il feedback è molto contestuale e da lì deriva l'idea che se parliamo di formative assessment è bene restituirlo io lo dico in maniera un po più terra terra restituirlo a caldo non con tempi dilatati perché perché poi perdiamo l'occasione di apprendimento con il nostro studente l'altro elemento è la differenziazione che loro fanno rispetto ad alcune caratteristiche che il feedback deve avere per esempio se sia scritto orale restituito cioè in maniera scritta orale dall'insegnante oppure concentrato su quello che è il processo piuttosto che il prodotto se non addirittura quelle che sono le strategie che lo studente ha messo in campo per far fronte a quello che era il compito di apprendimento quindi qui ritornano un po le parole che la professoressa nigris vi stava dicendo se non addirittura una cosa fantastica all'immagine che lo studente ha di se stesso in termini di apprendimento e di auto apprendimento è una cosa importantissima nella parte come dire sotto la freccia trovate quelle che sono le systematic review invece sopra ho messo le meta analisi ora tra il 2009 e 2011 sono stati pubblicati questi tre questi queste due review prima e poi questo 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 testo che adesso vi racconto siamo in piena era no child left behind negli Stati Uniti e quindi c'era stata anche l'implementazione e l'effetto anche perverso per certi aspetti di race to the top quindi della competizione tra i vari stati federali per garantirsi migliori esiti di apprendimento e di investimenti davvero consistenti che sono stati che sono stati realizzati bene Dan e Malvenon nel 2009 pubblicano una review e che cosa fanno questi due autori si prendono tutti gli studi che erano stati selezionati da Black & William e li rianalizzano e dicono che sostanzialmente avevano preso una non accantonata però che andava molto molto ammorbidito l'esito delle loro considerazioni e che quindi sì il formative assessment produce effettivamente un miglioramento di apprendimento però sicuramente non con quella con quell'impatto che era stato veicolato all'inizio e soprattutto dicono che quello a cui sarebbero dovuti giungere Black & William era invece il fatto di incentivare la ricerca e la ricerca sul formative assessment. Randy Bennett invece nel 2011 pubblica una critical review e Randy Bennett è un ricercatore di ETS Princeton quindi Educational Testing Service questo dovrebbe farvi capire anche il background di chi sta scrivendo quindi diciamo valutazione standardizzata tutta la vita per intenderci però Randy Bennett analizza quella che è la concettualizzazione del formative assessment della valutazione a supporto dell'apprendimento e dice che a distanza di quasi dieci anni è rimasta vaga non ben definita e che c'è davvero bisogno di capire di che cos'è che stiamo parlando se effettivamente poi vogliamo valutare quelli che sono gli effetti prodotti da determinate pratiche anche per orientare quello che poi è l'azione degli insegnanti in classe. Tra questi due studi ho posizionato un'esperienza realizzata ecco mettiamola in questi termini realizzata dallo stato del Nebraska perché nel 2008 quindi siamo in piena stagione di No Child Left Behind lo stato del Nebraska decide di non partecipare alla competizione Race to the Top e di come dire accantonare l'idea di accountability attraverso le valutazioni standardizzate quindi introduce una sorta di valutazione intermedia che è simile alla valutazione standard standardizzata ma con finalità formative a livello distrettuale gli effetti sono stati abbastanza dirompenti il progetto star si chiamava così però come spesso accade anche le buone intenzioni poi non hanno trovato come dire terreno facile e quindi nel giro di 4 5 anni sono sono tornati indietro e si sono ovviamente allineati a quella che era l'impostazione generale. Kingston e Nash nel 2011 pubblicano invece una nuova meta analisi e ancora una volta ribadiscono come le conclusioni di Black and William fossero inconsistenti guardate che è una cosa abbastanza forte a livello a livello di comunità scientifica sentirsi dire una cosa del genere però dicono che effettivamente non possiamo escludere che il formative assessment non funzioni abbiamo però bisogno di ulteriori studi empirici per poter garantire e poter fare affermazioni di questo tipo. Che cosa è successo? Vi racconto gli ultimi gli ultimi tre studi. Nel 2012 io ero ero negli Stati Uniti ero ad Albani con questa mia collega Edie Andrade e lei era nel pieno della di questa ricerca si è occupata di vedere gli impatti del formative assessment in 520 studenti di classe quinta del distretto scolastico di New York e lo ha fatto con un disegno sperimentale classico quindi gruppo di controllo e gruppo normale e occupandosi però di una cosa particolare che nel nella letteratura sul formative assessment non viene molto considerata cioè la differenza delle chiamiamole discipline agganciate all'apprendimento perché in genere o sono matematiche scienze oppure diciamo troverete una grande letteratura su quelli che sono gli English language learner cioè gli studenti che imparano l'inglese come seconda lingua perché appunto sono o di prima o di seconda generazione immigrati e nei contesti che vi ho elencato facendo riferimento al Commonwealth è una realtà molto frequente. Che cosa hanno guardato questi due colleghi? Hanno guardato nello specifico l'apprendimento nella discipline del performing arts quindi del teatro nello specifico e giusto per richiamare quello che stava dicendo prima Elisabetta hanno visto per esempio che il formative assessment funzionava molto meglio questo lo abbiamo estorto anche l'anno scorso a Dylan William durante una conferenza di scuola democratica funziona molto meglio col performance assessment che non con le situazioni diciamo etichettiamo le tradizionali quindi che cosa è venuto fuori che effettivamente le performance di apprendimento a livello di apprendimento di teatro ecco non è correttissimo però per farvi capire erano migliori rispetto invece agli impatti che si erano verificati a livello di concetti e di vocabolario quindi di nomenclatura in un certo qual modo del del mondo del teatro e quindi volendo utilizzare due termini che trovate nella normativa anche italiana conoscenza fattuale e conoscenza concettuale erano un certo qual modo penalizzati un po brutto come termine però il senso il senso è questo l'ultimo studio che è sempre una systematic review è stata realizzata nel 2020 da lì e colleghi e anche in questo caso si sono occupati di valutare effettivamente quello che era l'impatto del formative assessment sull'apprendimento degli studenti in matematica literacy e arte questa novità cercando di mettere a fuoco però quelle che erano come si dice le fici le caratteristiche del formative assessment e quindi per esempio l'idea che fosse con un gradiente di formalità diverso da quello dell'informalità oppure ancora il fatto che ci fosse una continuità in termini temporali nell'azione dinattica dell'insegnante oppure un'altra variabile classica super classica che gli insegnanti avessero fatto formazione professionale sul formative assessment. L'ultimo studio giusto per compiaceva il collega argentin è lo studio di Anderson ed altri che è stato pubblicato quest'anno ed è uno studio ehm randomizzato ehm condotto su centoquaranta scuole secondarie inglesi e ehm e hanno utilizzato anche in questo caso il GCCA vedendo però ehm l'impatto del di un intervento come dire di formazione light si dice nel senso che non era particolarmente strutturato ma era molto lasciato alla all'autonomia e alla organizzazione come dire delle scuole ehm nell'apprendimento degli studenti eh in matematica e eh e inglese ancora una volta e hanno eh effettivamente ottenuto un risultato che non è eh proprio da buttar via e ciò è il fatto che si passa da una eh un effetto di zero punto zero nove a zero undici in termini di effect size quindi insomma non non è non è brutto. Se ho ancora cinque minuti vi racconto un po' di cose anche dall'Italia non lo so Gianluca dimmi tu se no mi fermo. Sì sì continua pure se la fine. Ok allora vi racconto gli ultimi due studi che ho realizzato mh in epoca di pandemia mettiamola così ehm uno delle degli orientamenti su cui eh sto lavorando è ovviamente eh correlato all'implementazione della pratica valutativa in classe e ehm uno degli ultimi studi che ho fatto è quello sulla sulla competenza valutativa dell'insegnante con l'elaborazione di una definizione che è stata pubblicata nel duemila e diciannove. Ehm con questo collega di Hong Kong eh Yanzi abbiamo appunto lavorato a distanza durante questi due anni di lockdown per cercare di creare degli strumenti ehm che permettessero di supportare gli insegnanti ehm a capire se effettivamente stanno implementando nella maniera corretta il formative assessment. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo elaborato due diverse scale una ehm che si concentra mh effettivamente sul modello di ehm William e Thompson e quindi delle cinque strategie che vi dicevo prima eh condivisione obiettivi, success criteria, eh autovalutazione e valutazione tra pari, eh feedback eccetera e poi il il modello tridimensionale che io ho elaborato di assessment literacy che definisce questo concetto come una una sorta di ehm come si dire eh intreccio di elementi differenti che non sono soltanto quelli concettuali o pratici ma possono e devono essere anche quelli relativi agli aspetti etici eh socio relazionali perché parliamo di una valutazione che effettivamente tocca corde che tradizionalmente come dire sono state escluse dalla 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 attenzione generale. Scusate questi sono sono in inglese non li ho non li ho non li ho tradotti. Ehm che cosa abbiamo fatto? Questo è il primo studio che è stato che è stato pubblicato sulla sulla scala del formative assessment. Ehm abbiamo volutamente mh elaborato una scala che fosse breve. Cioè non andiamo oltre i dieci item. Perché? Perché abbiamo scelto due item per dimensione di 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 del modello di Dylan ehm e Thompson di di William e Thompson scusatemi. Eh è stato difficilissimo ovviamente raccogliere i dati perché in piena pandemia potete immaginare che cosa che cosa è stato e abbiamo elaborato le analisi che vedete sono una una fattoriale esplorativa e una fattoriale eh confermativa e una una rationalis che il collega comunque è uno psicometrista e quindi ha delle competenze che io che io non ho. Che cosa è uscito fuori? È uscito fuori intanto che il modello veniva confermato e quindi questo ci ha ehm quindi è reso contenti da questo punto di vista soprattutto rispetto alla differenziazione tra quelle che sono le pratiche che come vi dicevo prima facendo riferimento ai colori sono più di pertinenza dell'insegnante e quelle che invece sono come dire più di pertinenza degli studenti come appunto il fatto di ehm riflettere su quelle che sono le aree di debolezza o o di forza del mio del mio apprendimento oppure anche quello di confrontarmi con i con i miei compagni rispetto al mio al mio apprendimento. Ehm in particolare che cosa che cosa è emerso? Non so se riuscite a leggere anche sotto perché io non non lo leggo però ve lo ve lo dico perché ehm sono state soprattutto con la rationalisis evidenziate delle differenze diciamo a carattere contestuale culturale che confermano come effettivamente il formative assessment sia eh una pratica sociale alla fine dei conti no? E che quindi è vero che noi possiamo identificare alcuni aspetti come dire che ritornano però è anche vero che è molto fa poi la tradizione culturale di un paese ed è stato bello confrontare da questo punto di vista due realtà che sono molto diverse tra loro perché ovviamente l'Italia gravita sulla come dire la dimensione occidentale Hong Kong invece è tutta la cultura orientale e per esempio una differenza che viene molto molto fuori è il differente approccio che gli insegnanti hanno tra Italia e Hong Kong nel fare affidamento sui compiti a casa eh giusto per richiamare quello che stava dicendo Elisabetta è routine cioè si fa ma non veramente convinti e quindi alla fine dei conti bisognerebbe capire se effettivamente conviene continuare a farli oppure no perché perché gli insegnanti non si fidano sostanzialmente di quelle che sono le evidenze che raccolgono con i compiti a casa e quindi preferiscono sostanzialmente fare affidamento su quello che vedono in classe. L'ultima cosa invece molto molto velocemente questo è ehm uno studio che ehm ho ho pensato di fare rispetto a un tema che che non è molto mh come dire dibattuto all'interno della della comunità perché in genere appunto il self assessment l'autovalutazione è stata indagata in termini di ehm pratiche degli studenti come è giusto che siano però se voi ragionate sul fatto che sono comunque io l'insegnante sono responsabile di quelle strategie che promuovo o che suggerisco ai miei studenti e se ragionate nell'ottica appunto sempre della competenza valutativa dell'insegnante io dovrei essere capace di promuovere anche l'autovalutazione dei miei studenti e quindi eh diciamo ci siamo scambiati il favore rispetto agli approcci concettuali io e il collega e ho usato quella che era la sua scala ehm elaborata sull'autovalutazione degli studenti modificando gli item e come dire ponendoli dalla dal punto di vista dell'insegnante e sono venute fuori delle cose interessanti per esempio ehm sì qui trovate le quattro le quattro sottoscale relative alla all'autovalutazione e quindi il fatto che l'insegnante eh promuova quello che è la ricerca del feedback esterno attraverso il monitoraggio attraverso l'indagine attraverso il feedback interno e attraverso quella che ovviamente tutti quanti conosciamo come autoriflessione ehm che cosa è venuto fuori dal punto di vista del degli insegnanti italiani che eh c'è un'identificazione molto forte rispetto all'ultima dimensione cioè alla alla all'autoriflessione da questo punto di vista le altre pratiche sono realizzate sono effettivamente messe in campo però forse più in maniera inconsapevole lo so che sono ehm dico cose forse non proprio eh piacevoli ma è soprattutto la parte relativa al feedback interno che non è quasi mai ehm considerato e nel fare una un confronto tra ehm scuola secondaria di primo grado e scuola primaria proprio perché era stata intercettata dalla riforma abbiamo visto che effettivamente sono gli insegnanti della scuola primaria a realizzare più frequentemente eh e a promuovere più frequentemente l'autovalutazione però in entrambi i casi si falleva sempre sulla riflessione e non invece su quello che è il feedback interno che cos'è il feedback interno perché poi diventa importante è quello che ha a che fare con la dimensione sociale e relazionale anche del del formative assessment che vi stavo dicendo per esempio il fatto di essere consapevoli dell'impatto emotivo eh del fatto che io sappia gestire quello che è lo stress che che mi porta il fatto di dover affrontare un compito inedito che mi è stato assegnato dall'insegnante e quindi probabilmente c'è da questo punto di vista margine per lavorare rispetto alla formazione degli insegnanti anche su su quelle che sono le pratiche di autovalutazione negli studenti io mi fermo perché scusate mi sono mi sono allungata tanto quindi stop così grazie no grazie molte Serafine invece credo che abbia aiutato a arricchire il quadro da cui partivamo allora ho visto che c'è qualche domanda Elisabetta ok c'è è con noi perfetto allora Elisabetta ho visto che già hai disposto in chat a quella richiesta di eh bibliografia aggiuntiva grazie e però ho visto che c'erano anche altre due domande chiedevano i nostri ehm i nostri uditori se ci sono indicazioni sul eh corso formatori e poi il corso formatori la prima edizione che però è stata pubblicizzata da tutti gli USR alle scuole a tutte le scuole del regno purtroppo poi all'interno delle scuole non sempre passano le comunicazioni però eh si chiude adesso il 6 giugno mentre c'è un nuovo bando che è ancora aperto fino a domenica perché in alcune regioni non abbiamo coperto tutti i posti necessari quindi provateci se vi interessa c'era un'altra domanda che mi interessava che era quella sulle prove esatto sulle prove finali qualcuno chiedeva se le prove finali uniche di istituto hanno ancora un senso se quale senso hanno in questo nuovo quadro di valutazione allora non l'hanno adesso come non ce l'avevano prima su eh l'apprendimento del singolo bambino cioè io capisco la loro funzione come eh diciamo un livello intermedio fra eh la scuola e l'invalsi nel senso che la scuola al suo interno si preoccupa di vedere un po' di avere dei dati un po' generali ma intanto dipende che prova do perché che cosa voglio andare veramente a valutare le prove invalsi che vengono così tanto eh vituperate ma sono costruite studiate eh per avere un certo tipo di riscontro sulla padronanza se io do una prova ehm domande chiuse risposte chiuse di tipo riproduttivo riproduttivo e ripetitivo io non so che cosa posso ottenere se invece sono prove un po' più differenziate potrebbero dare alla scuola eh dei dati per riflettere ma è uno strumento per l'insegnante io credo che non possa essere utilizzato non non possa ma che non abbia molto senso eh utilizzarlo per la valutazione del singolo bambino perché in quella classe per quel percorso io farò delle cose ad hoc cioè io non credo nella progettazione uguale in tutte le classi peraltro quindi ma non ci credevo neanche prima eh dipende dai bambini che ho se io ho un modello di progettazione di tipo euristico dialogico come dovrebbe essere perché sia eh efficace ehm e che veramente sia per l'apprendimento anche la progettazione è chiaro che ogni progettazione pur avendo un'intenzionalità pur essendo guidata dall'insegnante può seguire strade diverse quindi io non sono molto per le prove molto chiaro molto grazie mille che per le risposte molto chiare non ma come dire evitanti la domanda tutt'altro grazie Elisabetta perché è una tua caratteristica esporti e farlo con generosità nel prendere posizioni ecco rispormi in un'ultima cosa ehm questo visto che si stava facendo anche una riflessione meta su eh la validità del formative assessment e eh appunto le evidenze dell'efficacia io credo che dovremmo un po' più sforzarci da adesso in poi visto che comunque dei dati di questo tipo ci sono di andare a collegare il formative assessment con il tipo di didattica perché se io diciamo fra virgolette uso il formative assessment ma ho fatto una di una didattica prima di tipo eh trasmissivo non funziona quindi secondo me abbiamo bisogno dei dati in più così come quando andiamo a studiare gli abbandoni eh i disagi e gli apprendimenti e dovremmo andare a vedere dietro che didattica c'è quindi è chiaro piacerebbe collaborare con Serafina e con Gianluca su questo. Quello che è emerso infatti credo che sia proprio eh come dire eh interessante per il nostro GP e per l'associazione è proprio il fatto che la valutazione come dicevi tu nel tuo intervento è un pezzetto da cui ci si muove per muoversi molti verso molti verso molti altri e come dire spostare quel tassello come spesso capita nella scuola con molti tasselli vuol dire avere implicazioni a più vasto raggio come ci ha mostrato anche Serafina perché alla fine troviamo molti studi che mostrano effetti rilevanti eh effetti rilevanti muovendo quello che apparentemente sembra un tassellino in un in un mosaico però spostare tassellini vuol dire cambiare molto spesso pezzi interi di mosaico nella scuola. Ho visto che ci sono degli altri commenti ma non eh domande se non ci sono altre domande io immagino che ventisette maggio alle diciotto tutti saremo felici di eh chiudere la settimana però siamo molto felici perché veramente la partecipazione è stata straordinaria e ripeto ancora una volta se avete proposte di seminari come questo che sono di vostro interesse istruzione punto aive chiocciolagmail.com lo riscriverò in chat prima di uscire in modo tale che lo trovate siamo veramente felici di rispondere alle vostre richieste ho visto Elisabetta che aveva un dito alzato no dicevo che oltre al ventisette maggio e alle diciotto è venerdì anche esattamente vedo che ci sono molte ehm osservazioni sulle prove imbalsi il che mi suggerisce che forse un seminario di discussioni sulle prove imbalsi può essere qualcosa di ancora utile e niente io metterò in chat per chi ha voglia di iscriverci l'indirizzo mail ringrazio tutte e tutti quelli che ci hanno ascoltato ringrazio ancora moltissimo Elisabetta e Serafina per averci arricchito con i loro contributi su questo tema e niente conto contiamo come GT tutti di rivedervi presto qui e di vedervi poi nel nostro convegno dell'associazione e via di seguito grazie davvero Elisabetta e grazie Serafina grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato grazie a presto